Ciao a tutti, oggi prepariamo un tomato secco in oliva di oliva, ma prima dovremmo secco il tomato, molto semplice, dovremmo trovare un buon tomato e dovremmo cortarlo in due parti, ora vi mostrerò a voi, dopo dovremmo mettere qualche salto e mettere sotto il sole, ma porremmo venite e guardate, prendete un tomato e fate! Ora abbiamo aggiunto il salto e mettiamo il tomato sotto il sole, e poi metto su due sticci, in questo modo possono prendere anche il buon tomato sotto, in questo modo si secco più velocemente. Vi vediamo domani per controllare il nostro tomato. Vi vedete che ho messo il tomato sul canale che ho usato per fare la pizza, perché a mattina ho provato di mettere la metà nel canale e la metà nel canale, ma la metà nel canale si secco più che la metà nel canale, quindi ora ho messo tutto sul canale. E anche, oggi è il numero 3, aggiungo anche qualche salto, in questo modo il tomato si secco meglio. vi vediamo in pochi giorni. dopo sei giorni, i nostri tomati sono secchi. ora dovremmo cuocerci per 5 minuti in acqua, con il vinagre. useremo un litro di acqua e un po' di caccia di vinagre. ricordate che da 2 kg di tomato, otteniamo 200 g di tomato secco. quindi potremmo cuocerci, magari 2 o 3 g di caccia con questo tomato secco. ma ora, avvolgere il fuoco, quando la acqua cuocerci, metteremo il tomato. il fuoco, quando la acqua cuocerci, metteremo il fuoco, metteremo il fuoco. il fuoco, metteremo il fuoco, metteremo il fuoco. il fuoco, metteremo il fuoco, metteremo il fuoco. in questo modo, dovremmo cuocerci, ancora, il nostro tomato. se lo facciamo nel vento, dovremmo fare questo all'avvenimento e alla mattina, potremmo metteremo nel fuoco. ma perché qui è molto freddo, faccio questo, magari in 2 o 3 ore. quindi, vi vediamo dopo, per mettere il tomato nel fuoco. ora, abbiamo bisogno di olio oliva extra virgine, gli organi, l'acqua, e dopo puoi mettere altre spezie che che vi piace, come chili, come cuocerci, e così via. ma in questo caso, useremo solo gli ingredienti. quindi, ora, abbiamo tagliato il fuoco, metteremo il fuoco, metteremo il fuoco, metteremo il fuoco, metteremo il fuoco, 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 e così via. e dopo, avremo completaremo con questo fuoco, che ora non ricordo il nome. e vi dirò dopo. per la parte della parte. circa il fuoco, un 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 fuoco! e questo è un fuoco. ma non ricordo il fuoco, un fuoco. e questo è un fuoco. Grazie a tutti. 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 Grazie.